Buongiorno e ben ritrovati da LelioMinaia.com nel nostro consueto spazio di presentazione dei prodotti Hi-Fi. Oggi volevo presentarvi questo gran bel giradischi del costruttore italiano New Horizon e precisamente l'attuale modello top di gamma del costruttore, il GDS II. Come notate, oltre ad essere un giradischi massiccio e imponente, viene fornito anche con alcune finiture di pregio. In questo caso, questa finitura qua è radica di noce, laccato lucido. Molto bello. Monta questo piatto spesso in metacrilato. Monta un braccio da 9 pollici con il suo contrappeso e l'antiskating a pesino, col pesino. Questo giradischi viene fornito dal costruttore senza testina. Noi per l'occasione abbiamo montato una ortofon blu, anche per provarlo. Come notate, questo giradischi ha un plinto formato da due parti, la parte superiore e la parte inferiore. Qui in questo caso noi abbiamo fatto un setup a telaio rigido, ma questo giradischi può lavorare anche con telaio flottante. Ovvero, tra il plinto, la parte superiore e la parte inferiore, queste due sezioni qua, qua in mezzo ci sono delle molle. Adesso noi veramente siamo arrivati a zero e queste due parti del plinto sono una schiacciata all'altra. Qui vediamo una delle regolazioni per regolare appunto le molle qua sotto per farlo diventare un telaio flottante. Quindi, manopolo di regolazione per dare la distanza delle due sezioni del plinto e anche per dare appunto la... diciamo, più o meno praticamente la sospensione della molla. Questo giradischi viene praticamente alimentato da un alimentatore a bassa tensione che poi andremo a vedere bene e da un componente separato per la regolazione elettronica della velocità denominato New Horizont Ale. 33 giri. stop 45 giri. La manopola praticamente è interposto praticamente uno zero ogni volta che si fa il cambio di velocità. vediamo anche l'alimentazione e la copertura in dotazione. Questa è la sua copertura con una forma molto particolare adesso non guardate che è sporco perché l'ho appena tirato fuori dalla scatola è sporco dal... diciamo, dall'imballo, il polistirolo che lo sporca un po' bisogna pulirlo meglio. Vi faccio vedere anche l'alimentatore. Questo è il suo alimentatore a bassa tensione un alimentatore in corrente alternata 220 30 volt in corrente alternata di uscita. sempre se il video vi è piaciuto vi è stato utile oppure volete alcune delucidazioni tecniche adesso non mi sono soffermato su sulle caratteristiche tecniche che poi vi metterò sotto il video. Ricordate di iscrivervi al mio canale YouTube di selezionare la campanella di YouTube per essere sempre avvisati dei miei contenuti video. Arrivederci al prossimo video grazie dall'Egliominaya.com Borgomanero in provincia di Novara grazie